Caravan Art è un'idea semplice ma innovativa, è un progetto diretto al territorio, un progetto formativo. L'idea è quella di coinvolgere direttamente sul territorio i ragazzi, le comunità, le persone che vogliono provare a capire, che vogliono provare a comprendere meglio cos'è il mondo del cinema, cos'è il mondo dell'audiovisivo. È una scuola che prende competenze vere del mondo del cinema, del mondo dell'audiovisivo, professionisti che hanno fatto del mestiere del cinema, che hanno fatto del cinema il loro mestiere, la loro professione, la loro vita e li porta sul territorio. I modelli sono quattro, c'è il corso propedeutico per recitazione, un primo approccio al mondo della recitazione è come si sta davanti alla macchina d'appresa. Il secondo è un corso di scrittura creativa per cinema, è un corso importante perché in solo 16 settimane ti permette di avere una visione del mestiere dello sceneggiatore e con me ti permette di scrivere una sceneggiatura di un lungometraggio compiuta, finita, pronta per il mercato, pronta per essere portata da un produttore e magari per essere prodotta. Poi c'è il corso di alta formazione cinematografica, un corso importante, innovativo, che si apre a 360 gradi e dà la possibilità di avere una visione totale di quello che è il mondo del cinema, dall'ideazione alla produzione alla finalizzazione del prodotto. Il quarto è una cosa innovativa, sperimentale, fresca, giovane, innovativa. È un laboratorio creativo per ragazzi, un corso, un laboratorio, un momento di divertimento, un momento ludico, ma allo stesso tempo importante perché dà la possibilità a ragazzi tra i 7 e i 14 anni di sperimentare le tecniche del cinema e imparare il cinema facendolo in modo divertente, facendolo in modo creativo, in modo artigianale, con noi e creando un primo piccolo prodotto di Ovisivo. Sono modelli che prendono direttamente dal mercato internazionale, modelli che prendono schemi che permettono una formazione precisa, una formazione immediata, una formazione ristretta in un tempo che sta tra le 12 e le 20 settimane e permette alla persona, allo studente, all'allievo di capire immediatamente il tipo di percorso che può fare e che tipo di scelta alla fine di questo percorso è meglio fare per la sua vita, perché anche educare al cinema è qualcosa di fondamentale, non solo per il cinema stesso ma per la formazione della persona. Ecco cos'è Caravan Art.